Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre il vostro caro Francis 5000 ed oggi siamo ad un nuovo vlog allora, come avete visto nel video precedente di ieri cioè, no, di oggi di oggi, perchè oggi, adesso è il video il secondo video che ho fatto di sta giornata il video di Minecraft precedente non so se vi è piaciuto comunque, volevo fare questo vlog per dirvi due cose la prima, che io, cioè avevo già un cane su Youtube però è stato cancellato, non so come e si chiamava Francesco Sannino, che l'ho usato come mio nome perchè mio nome è Francesco Sannino comunque poi, vi lascio il link sotto nella descrizione Massimo potete trovare 5-6 video e anche commentati comunque, la seconda cosa che vi volevo dire che è una cosa un po' stupida da farvi vedere però, ho deciso di mettere una mascotte del canale e la mascotte del canale sarà la mascotte del canale sarà il mio pupazzo di infanzia che, come potete vedere, sarà in una bellissima posizione e poi, è bella, è bella, è bella ma che cazzo sto facendo vabbè comunque, lui sarà la mascotte del canale e poi, dopo taglierò per farvi vedere una cosa molto bella una cosa bella una bella sorpresa perchè non so quando si farà però domani mattina non ci sarà Minecraft la seconda parte ma ci sarà perchè lo tengo in braccio non ci sarà la seconda parte ma ci sarà bensì o GTA 4 o Deadpool o GTA 5 oppure Happy Wheels non so però qualche cosa ci dovrebbe stare perchè proprio non è che non posso fare i video vabbè non dico che non devo più registrare però diciamo eh vabbè cosa dovevo dire? ah si io non so se l'ho detto nel canale precedente in verità non mi ricordo ma avevo lasciato il link di un canale chiamato Manue Gameplay e io sono iscritto massimo potrete trovare tipo 60 video 62 video boh qualche 60 una sessantina di video eh ha soltanto 30 iscritti eh l'iscritto è lui al mio canale eh comunque iscrivetevi anche voi eh comunque vi lascio il link sotto nella pagina di Facebook e anche il suo video migliore eh ditemi fra GTA 4 GTA 5 Deadpool ed Happy Wheels quale di questi quale di questi quattro devo fare? ehm di dirmi la tua opinione di quale di quattro posso fare comunque ehm se vi dimenticate le mie parole le scrivo anche nella descrizione vabbè siamo a... aspettate vedeva senza adesso stiamo a tre minuti stiamo a tre minuti è bene ok allora io ehm taglio per farvi vedere questa cosa aspettate aspettate ragazzi ci stanno tipo dei cosi dove escono la sorpresa dove sta una certa roba eccetera bene qua ci sta qualcos'altro allora adesso a voi vi sembra che questo coso sia normalissimo quando ho scritto milk il coso del mulino bianco che lo tengo conservato ormai da sei anni bene cosa c'è dentro voi direte? aspettate che taglio se no qua ok madonna madonna oddio mio santissimo cosa mi tocca fare guardate aspettate ragazzi metto qua guardate cosa mi tocca fare madonna madonna ah grazie a dio ok guardate questa roba non la uso da tempo perchè può essere anche molto pericoloso questo prima o poi lo butterò perchè è molto pericoloso va bene vi ho fatto vedere questa cosa comunque se voi direte ma qua dentro ma qua dentro queste cose tu non le dovresti mettere io le metto perchè la era ancora piccolo ma queste cose ma le butto e le userò però le sparerò a un muro tipo per non farmi male però non voglio spaccare tutto il muro ma cioè no diciamo che non le sparerò proprio perchè mo io sono stancato con tutte quelle pistole a palline basta pistole a palline non mi piacciono più ma le userò mai più perchè sono violente comunque allora siamo soltanto aspetta allora siamo a sei minuti va bene ragazzi il video può terminare qui con questa bella sorpresina vi lascio il link sotto nella descrizione di tutto quello che ho detto va bene ehm like commentate iscrivete al canale se vi è piaciuto mettete un like iscrivete al canale e commentate ciao a tutti ragazzi ciao a tutti